Buongiorno a tutti, sono Roberto Tavani, il delegato allo sport della Regione Lazio. Mi faceva molto piacere, pur non potendo essere lì, portare un saluto, il saluto della Giunta Zingaretti a questa splendida inaugurazione di oggi. Questa via dei giochi, costruita in maniera completamente sostenibile con questo partenariato WISP-Ecopneus, non potrà che portare dei benefici alla collettività che vive in quel quadrante territoriale e non potrà che aiutarci ad affermare la forza dello sport per uscire dalla pandemia attraverso la socialità, attraverso il gioco, attraverso lo stare insieme. E chi, meglio di WISP, può portare avanti un progetto come questo. Anche la collaborazione con Ecopneus è fondamentale perché ci dà il senso di come la sostenibilità possa davvero entrare nelle agende a 360 gradi. In questo caso la sostenibilità sposa lo sport e quindi sicuramente è il matrimonio più bello. Quindi bocca al lupo a tutti e a presto per capire come potenziare, come animare questa iniziativa. Noi come Regione Lazio ci saremo e faremo la nostra parte.